Giovedì della prima settimana di Quaresima, anno liturgico, rito antico. La stazione è oggi nella chiesa di San Lorenzo, i Panisperna, una delle tanti in cui la pietà romana onorò il martire più illustre dell'eterna città. Lezione Ezechiele 18, 1, 9. In quei giorni la parola del Signore si è rivolta a me dicendo, perché tra voi circola questo proverbio? A proposito della terra di Israele, dite, i padri mangiarono l'uva cerba e si sono allegati i denti ai figlioli? Io sono il vivente, dice il Signore. Questa parabola non sarà più per voi un proverbio in Israele. Ecco che tutte le anime sono mie, quella del padre come quella del figlio è mia e morirà l'anima che ha peccato. Se un uomo sarà giusto e vivrà secondo il diritto e la giustizia, se non mangerà sui monti, non alzerà i suoi occhi agli idoli della casa di Israele, non peccherà con la moglie del suo prossimo, non s'accosterà a donne immonda, non offenderà nessuno, renderà il pegno del debitore, non commetterà rapine, darà il suo pane all'affamato, rivestirà l'ignudo, non presterà ad usura, non riceverà più di quanto ha dato, ritrarrà la sua mano dall'iniquità, giudicherà con verità tra uomo e uomo, camminerà nei miei precetti e osserverà le mie leggi, operando con fedeltà. Questi è giusto e vivrà di vera vita, dice il Signore Onnipotente. La conversione dei popoli La presente lettura del profeta ci fa ammirare la misericordia di Dio verso i gentili che stavano per venire dalle tenebre alla luce per la grazia del santo battesimo. In vano il proverbio giudaico sostiene si sono legati i denti dei figli perché i loro padri hanno mangiato uva acerba. Fin dall'antico testamento Dio dichiara che i peccati sono personali e che troverà la misericordia e la vita il figlio dell'empio che seguirà la giustizia. La predicazione del Vangelo per mezzo degli apostoli e dei loro discepoli fu l'appello che risuonò in tutta la gentilità e ben presto si videro i figli dei popoli idolatri farsi intorno alla piscina della salute e rinnegare le opere malvagie dei loro padri così da diventare l'oggetto delle compiacenze del Signore. La medesima meraviglia si ripete alla conversione dei barbari dell'Occidente e sempre continua a manifestarsi fra i popoli infedeli. Anche quest'anno una schiera numerosa di catecumeni saranno rigenerati nella festa di Pasqua. La giustizia di Dio. Nell'ordine temporale spesso Dio punisce nei figli l'iniquità dei padri. Una simile disposizione della sua provvidenza è di utile istruzione agli uomini che ricevono da ciò salutare lezioni. Ma nell'ordine morale ciascuno è trattato secondo i propri meriti e come Dio non imputa al figlio virtuoso l'iniquità del padre così la virtù del padre non riscatta la malvagità del figlio. San Luigi fu l'avolo di Filippo il Bello e Luigi XVI era il nipote di Luigi XV. Tali contrasti si riscontrano in molte famiglie. Dio lasciò l'uomo in balia del suo arbitrio. Davanti a lui sta la vita e la morte, il bene e il male. Gli sarà dato quel che egli sceglierà. Ma la misericordia di Dio nostro Signore è tale che, quando anche l'uomo avesse fatto una cattiva scelta, se rigetta il male che Dianzi aveva preferito e si rivolge al bene, egli, anche egli, avrà, vivrà della vita e la penitenza gli restituirà ciò che aveva perduto. Vangelo Matteo 15 21 28 In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò nelle parti di Tiro e di Sidone ed ecco una donna cananea venne fuori da quei luoghi a dirgli gridando, abbi pietà di me o Signore figlio di David, la mia figliuola è crudelmente tormentata dal demonio. Egli però non le fece parola e i suoi discepoli, accostatesi a lui, lo pregavano dicendo, esaudiscila che ci grida dietro. Ed egli rispose, non sono mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella venne e l'adorò dicendo, Signore aiutami. Ed egli le rispose, non è bene prendere il pane dei figlioli e gettarlo ai cani. Ed essa, dici bene, Signore, ma anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla mensa dei loro padroni. Allora Gesù le disse, o donna, è grande la tua fede, ti sia fatto come desideri. E sull'istante la figlia fu guarita. Perseveranza nella preghiera. Gesù ammira la fede di questa donna. La loda e la raccomanda alla nostra imitazione. Essa era una pagana, forse fino allora aveva adorato gli idoli, ma viene al Salvatore. Spinta dall'amore materno, cade ai piedi di Gesù e non solo ottiene la guarigione della figlia, ma senza dubbio anche quella della sua anima. È l'applicazione della consolante verità che abbiamo trovato poco fa nel profeta. Dialetti appartengono a tutte le razze, anche a quella maledetta dei cananei. Questa donna viene trattata dal Signore con apparente durezza, sebbene egli abbia risoluto di esaudirla, perché vuole che la sua fede si innalzi fino al cielo e così sia degna ad essere ricompensata. Preghiamo dunque con insistenza in questi giorni di misericordia. La figlia della cananea era attormentata dal demonio nel corpo. Quante anime in tutta la Chiesa sono presa dello spirito infernale per il peccato mortale che abita in esse? Avvertono esse il loro male? Pensano ad alzare le loro grida al liberatore? E se all'inizio egli fa attendere la grazia del perdono, sanno umiliarsi come la donna del Vangelo, la quale accetta con semplicità rimprovero che sembra farle salvatore? Pecorelle smarite della casa di Israele, approfittate del tempo in cui avete ancora il pastore. Fra meno di 40 giorni egli sarà messo a morte e non sarà più suo il popolo che lo rinnegherà. Fra meno di 40 giorni noi pure celebreremo l'anniversario di questo grande sacrificio. Ogni pecatore che non avrà radrezzato le sue vie e non sarà venuto a Gesù con l'umiltà della Cananea. Meriterà di essere rigettato da lui senza remissione. Affrettiamoci dunque a renderci degni della sua riconciliazione. Il banchetto dei figli di Dio è già imbandito. La generosità del padre di famiglia è tale che se vogliamo ritornare a lui con tutto il nostro cuore, non solo ci lascerà raccogliere le briciole che cadono da quella mensa, ma ci darà lo stesso Gesù, il pane di vita, impegno dell'eterna riconciliazione. Preghiamo. Concedi, o Signore, al popolo cristiano di conoscere ciò che professa e di amare il dono celeste che frequenta.